Questa trasmissione è offerta da Alp Station Tarvisio. My heart is under rest again, but I break the loose. My head is giving me life for death. Buongiorno e buona domenica. Siamo in diretta dalla Piana dell'Angelo a Fracamporosso e Tarvisio e quindi vi racconteremo questa giornata che è fredda ma non troppo fredda. Tra l'altro è piovuto e quindi per motivi di sicurezza ma poi sia il direttore del Polo Scistico sia il direttore della Scuola Scistico spiegheranno insomma quali sono gli impianti aperti. Ma vorrei iniziare salutando una mia nuova compagna di viaggio che è Sara Ramani. Buongiorno. Buongiorno a te Daniele e buongiorno a tutti i nostri telespettatori di Telefriuli. Come ogni domenica in diretta alle 11 e mezza per il nostro campanile appunto. Senti scherzavamo prima della diretta, i triestini visto che tu arrivi da là ma la mamma è di origini friulane amano queste zone. Appunto so, a parte che amano queste zone ma so che voi dite che i triestini vendono la barca per comprare gli sci per venire in montagna. Tutti i triestini amano la montagna e quindi insomma io sono molto felice di essere qua anche se appunto sono metà friulana metà triestina. Allora con Sara condivideremo ovviamente il microfono e quindi ci saranno delle interviste che realizzerò io e altre lei e altre le faremo anche insieme. C'è la musica, c'è la storia con questi sci di legno che evidentemente un tempo erano costruiti con questo materiale semplice e molto utile. C'è l'assessore agli eventi che di fatto oggi ha una duplice funzione e c'è anche il vice presidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini che di fatto è anche un uomo di riferimento per questo locale che sta proprio davanti a noi, ovvero sia il vecchio Schili. Buongiorno Mazzolini. Buongiorno, ciao, ben arrivati. Devo fare solo una semplice precisazione se posso. Ha piovuto ieri ma stanotte ha nevicato, nevicati abbondanti. Lunedì riapriamo gli impianti di tutti i poli scistici del Friuli Venezia Giulia. Arriva il freddo, non è successo niente, le piste saranno perfette come sempre anche perché il manto nevoso gira attorno ai 70 cm di neve. Quindi siamo tranquilli e sereni per completare la stagione invernale. Mazzolini, visto che so quanto ami questi territori, questo è un politico che percorre migliaia e migliaia di chilometri, siamo abituati a vedere i suoi post, oggi sono qua, oggi sono là, quindi va dalle grandi località sino alle piccole. Perché venire a Tarvisio? Venire a Tarvisio innanzitutto perché è la terra dei tre confini, il Monte Lussari poi l'emblema del punto d'incontro della cristianità dei paesi austriaci, sloveni e italiani che sempre hanno convissuto assieme. Ma perché? Perché siamo legati da quella croce, da quella cristianità che ci unisce, oltre alle bellissime piste da sci sempre preparate al 100%, le scuole di sci sempre pronte a dare il loro servizio, ma poi d'estate il trekking, le biciclette, i laghi, la ciclabile, l'alpeadria. Ci sono tantissime offerte che comunque correlate tra loro insieme anche a tutta la montagna del Friuli Venezia Giulia, diamo delle risposte concrete al turista che vuole frequentare o che viene comunque in Friuli Venezia Giulia. Allora io cedo subito il microfono alla nostra Sara, ci sono dei servizi che ha realizzato Paola Treppo, giusto? Benissimo, grazie. Allora adesso mandiamo un attimo il primo servizio che abbiamo, ovvero quello appunto della chiesetta di Santa Dorotea. Allora chiedo alla regia di mandare questo servizio. E adesso cominciamo a scoprire insieme a voi quali sono i misteri e la storia della comunità di Campo Rosso. Intanto siamo con Kevin in questo splendido edificio sacro del 1200 circa, dove sono stati restaurati da poco alcuni affreschi. Le opere di sistemazione dei dipinti sono ancora in corso, ma per la festa della Santa che tra pochi giorni i ragazzi hanno già pulito tutta la chiesa, vero Kevin? Esatto, il 6 febbraio si terrà la festa del patrono di Santa Dorotea, un'occasione per stare tutti assieme e conoscere il coro e il gruppo folk della valle che canta appunto canzoni tipiche della nostra zona in tre lingue, ovvero italiano, tedesco e sloveno. Ok, ecco questa chiesa è splendida, ha anche, come diceva Kevin, lo spazio per una corale alle nostre spalle, infatti le spalle diciamo dell'altare, c'è questa parte dedicata al coro, una piccola scaletta permette di salire nella parte superiore, dove i ragazzi molto impegnati qui a Campo Rosso strettamente legati alle tradizioni locali si incontrano per cantare appunto i canti e le melodie tipiche di questa zona che ricordiamo appunto a diverse lingue, diverse culture che si compenetrano l'una con l'altra. Adesso ci spostiamo qui della splendida chiesa di Santa Dorotea nella sede della vicinia per scoprire da che, quali sono le origini anche del nome Campo Rosso e per scoprire insieme a voi quelli che erano le origini di un misterioso mitreo. Ed eccoci appunto di nuovo qui in diretta dal cuore di Tarvisio e gentilmente mio collega Daniele Paroni mi ha ceduto il microfono, insomma, qualche minuto fa. È un piacere. Cara Ramani, per chi ci sta guardando a casa, saluto ovviamente Valdi Valdino, Paolo Bassi, Tiziano Campigotto in regia c'è quello che ho battezzato poco fa il Trio delle Meraviglie. Cioè, provate, voi rimanete pure fermi sul divano e godetevi questo spettacolo alle nostre spalle e la musica della Val Canale, il Trio delle Meraviglie. Allora via! Allora via! Allora via! Grazie a tutti. 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 Triforio. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. perché a tutti. Grazie 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 a tutti.